Abbiamo una nuova rubrica che inseriamo all'interno della Tu per Tu, ti faccio delle domande secche o dovrai rispondere cosa preferisci tra le due in maniera assolutamente così immediata. Messi o Ronaldo? Ronaldo. Scarpini neri o scarpini colorati? Colorati. Palla a terra o palla lunga? Palla lunga. E pedalare? Mi allaccio a pasta corta o pasta lunga? Pasta corta. FIFA o PES? FIFA. Tutta la vita? Tutta la vita. Discoteca o seratina tranquilla tra amici? Discoteca. Aperitivo o cena? Cena. Insigne o Ibrahimovic? Adesso Insigne. Carne o pesce? Carne. Vestito casual o elegante? Casual. Facebook o Twitter? Facebook. Mare o montagna? Mare. Bianco o nero? Bianco e nero. Tutte e due, bravo, bravissimo. Pirlo, Gerard, c'hai già risposto? Pirlo. Occhiali o lenti a contatto? Occhiali. Giustamente, anche qui. Lo abbiamo visto.